Una domanda così al volo, cosa ne pensi di questo corso? Per me è stato molto stimolante, è stata una sorpresa, quindi sono soddisfatta. E dal lunedì che farai? Dal lunedì metto a posto tutti gli appunti e preparo la mia scaletta di priorità per evolvere secondo le direzioni che mi sono state consigliate. Un voto da 1 a 10 a questo corso? 9,5